Come lavare i capelli. Per entrambi gli uomini e le donne, ci sono così tanti tipi di shampoo e condizionatori da scegliere presso il negozio. È importante imparare come trovare il shampoo e balsamo che è giusto per i tuoi capelli. Digitare. Perché acquistare il giusto tipo di shampoo per i capelli è essenziale. Per ottenere i capelli a guardare e sentire meglio. Unire lo shampoo e balsamo a destra con il lavaggio a destra e tecniche di condizionamento, e sarete sulla buona strada per grandi. Guardando i capelli. Lavare i capelli. Lavare i capelli con abbondante acqua tiepida. I tuoi capelli avrà bisogno di essere completamente imbevuto prima di applicare lo shampoo. L'utilizzo di acqua calda è importante, perché l'acqua calda aprirà la cuticole nei capelli. Una volta che i capelli sono messo a bagno in acqua tiepida i capelli inizierà a perdere. Ogni traccia di sporco è costruire accumulato. Inoltre, l'acqua calda aiuterà il vostro capelli e cuoio capelluto assorbono. Gli oli della condizionatore. Lasciate che i vostri capelli bagnare completamente prima di applicare il vostro shampoo. Considerare l'utilizzo di un filtro per l'acqua che estrae le materie minerali dure. Dalla vostra acqua. I vostri capelli risciacquo più pulito e più morbida. Condizione i capelli prima di shampoo se avete i capelli lunghi. Questo può essere una novità per voi, ma se i vostri capelli cade oltre le spalle. Le estremità dei vostri capelli hanno bisogno di più condizionata per tenerli forte. Applicare una quantità di nickel di dimensioni del condizionatore per i palmi delle mani e massaggio. Delicatamente nelle estremità dei vostri capelli. Questo proteggerà i vostri scopi dalla scissione e aggiungere brillantezza. Massaggiare delicatamente lo shampoo nelle radici dei vostri capelli. Misurare un Piccola quantità di quarto di shampoo nel palmo della vostra capelli se sì. Hanno i capelli di lunghezza breve o medio. Si può raddoppiare tale importo se i vostri capelli è più lungo di quanto il tuo. Le spalle Strofinare tra i palmi delle mani e poi lavorare dolcemente lo shampoo in Radici dei vostri capelli, massaggiando, non strofinare, come si va. Inoltre, assicuratevi di shampoo bene alla nuca del collo. Sii gentile, non macchia i capelli ed evitare movimenti circolari stretti. Non si vuole danneggiare o rompere le cuticole dei vostri capelli. Non shampoo le estremità dei vostri capelli se avete i capelli più lunghi. Tu Bisogno di più shampoo alle radici, perché è lì che la maggioranza Del vostro olio è Avete bisogno di meno shampoo o senza shampoo a portata di punti dei capelli. Perché è la più antica e più secco capelli. Se si dispone di accumulo del prodotto, è possibile shampoo i capelli con un Purificare shampoo una volta alla settimana Lavare i capelli e far uscire l'acqua in eccesso Lavare i capelli con acqua tiepida fino a quando è libero da ogni shampoo Correre Le dita tra i capelli per favorire l'acqua fuori i capelli se Avete i capelli corti Premere delicatamente l'acqua fuori dei vostri capelli al tronco e alla fine Per preparare il condizionatore se avete i capelli più lunghi Condizionamento dei vostri capelli Distribuito balsamo sui capelli se è meno di 3 pollici Lungo È possibile utilizzare una quantità a quarto dimensione del condizionatore Si può lasciare in per circa due minuti e mezzo, ed è possibile utilizzare Questa volta per radersi o finire la doccia Se si utilizza il condizionatore per capelli normali, si può utilizzare ogni Giorno Sciacquare bene i capelli con acqua tiepida Se hai trovato costruire Fino nei capelli, potrebbe essere causa di non risciacquare bene i capelli Abbastanza dopo aver condizione Applicare il condizionatore sul tronco e estremità dei vostri capelli, se sì Avere i capelli più lunghi Strofinare un ciuffo quarto dimensione del condizionatore tra le mani Non preoccupatevi di applicare condizionatore fino alla radice dei capelli I tuoi capelli ha abbastanza petrolio alla radice dei capelli Clip i capelli, e finire la doccia Più a lungo i capelli sono Essendo condizionata, meglio in grado di assorbire il condizionatore Tieni un clip nel doccia per uso ripetuto È inoltre possibile utilizzare una cravatta capelli per mettere i capelli in su, ma attenzione a non Per mettere i capelli fino stretto, perché non si vuole danneggiare il Cuticole dei vostri capelli Ricordate, i capelli è al suo più fragile quando è bagnato È inoltre possibile utilizzare una cuffia per la doccia per mantenere il vostro condizionatore da risciacquo Fuori mentre si è sotto la doccia Lasciare il condizionatore nei capelli per 10 minuti dopo la doccia Se avete i capelli più lunghi Se si vuole uscire dalla doccia rapidamente per conservare l'acqua o Avete i capelli extra dry, questo darà ai capelli il tempo supplementare che Deve assorbire gli oli nel condizionatore Tenere i capelli in una clip o avvolgere i capelli in un asciugamano per mantenere Dal tuo modo Lavare i capelli con acqua fredda se avete i capelli lunghi Il bello L'acqua si chiuderà le cuticole nei capelli e mantenere l'umidità e Oli sigillati nei capelli E capelli sarà più lucidi se vi ricordate di fare questo passo Costantemente durante la doccia di routine Assicurarsi di lavare tutto il condizionatore fuori dei vostri capelli Se ci E' ancora condizionatore lasciato nei capelli il condizionatore lascerà I capelli cercando debole e oleosa Utilizzare un congedo in condizionatore Ci sono permesso in condizionatori commercializzato Per gli uomini e le donne Lascia in condizionatore rafforzerà i capelli E che renderanno la vostra Capelli più flessibile Dopo aver inondato Applicare congedo in Balsamo sui capelli umidi Bedhead, Aveda, e Paul Mitkel hanno prodotti per il congedo in Condizionatore per gli uomini Alcuni uomini riferiscono che il congedo in condizionatore rende i capelli più Gestibile se shampoo tutti i giorni Ruotare il tipo di shampoo si utilizza se si dispone di forfora Questo è il Metodo migliore per combattere la forfora Interruttore 1 shampoo con acido salicillico 1 con zinco piritione 1 con solfuro di selenio per combattere efficacemente tali macchie fastidiosi Ruotare anche in un normale shampoo di tanto in tanto O un idratante Shampoo se i vostri capelli è l'essiccazione fuori dalle shampoo antiforfora Se i capelli sono ancora flaking, follow up il vostro shampoo con una mela Aceto di sidro di risciacquare per combattere il lievito e batteri